Festival di Sanremo 2023 7 febbraio 2023 21 e 38 la prima gaff di Sanremo è di Amadeus. San Giovanni, Gian Maria, se la gioca al Fanta Sanremo al termine del brano di Gian Maria, Amadeus torna a centro palco e invita il pubblico ad acclamarlo, ma sbaglia nome, San Giovanni. Un lapsus clamoroso per il conduttore, che ha scambiato l'attuale big in gara con l'ex concorrente di Amici che ha partecipato lo scorso anno al festival. Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023, attiva gli aggiornamenti primo scivolone per il Festival di Sanremo 2023. A commetterlo è il direttore artistico Amadeus, che cade sul nome del secondo artista in gara, a nemmeno un'ora dall'inizio del festival. Subito dopo Anna Oxa, si è esibito sul palco Gian Maria, con il brano, Mostro, ma il conduttore artistico lo scambia per uno dei concorrenti della scorsa edizione. Nonostante la gaff, cerca di risollevarsi al meglio. Amadeus scambia Gian Maria per San Giovanni al termine del brano di Gian Maria. Amadeus torna a centro palco insieme a Gianni Morandi, e invita il pubblico ad acclamarlo, ma sbaglia nome. San Giovanni, esclama. Un lapsus clamoroso per il conduttore, che ha scambiato l'attuale big in gara con l'ex concorrente di amici che ha partecipato. Amadeus torna a centro palco insieme a Gianni Morandi, che ha scambiato l'attuale big in gara con l'attuale big in gara. Amadeus torna a centro palco insieme a Gianni Morandi, che ha scambiato l'attuale big in gara. Amadeus torna a centro palco insieme a Gianni Morandi, che ha scambiato l'attuale big in gara. Amadeus torna a centro palco insieme a Gianni Morandi, che ha scambiato l'attuale big in gara. Buongiorno a centro palco insieme a Gianni Morandi, che ha scambiato l'attuale big in gara. Grazie a tutti